Todi, una città medievale tra le più belle d'Italia, una perla incastonata nel territorio ombro, meta turistica irrinunciabile ed eletta da una università americana città più vivibile del mondo. Per arrivare a Todi abbiamo scelto la nuova Peugeot 5008, una monovolume comoda e versatile con la quale percorriamo la superstrada E45 per poi arrampicarci fino in cima al colle e raggiungere il centro cittadino. Arrivando a Todi dalla parte di Ponte Cuti, che si affaccia sul Tevere, ci troviamo improvvisamente di fronte alla splendida chiesa della Consolazione, la cui realizzazione viene attribuita al Bramante. Poche centinaia di metri ed eccoci nel cuore pulsante della città, la centralissima piazza del popolo, che oggi rappresenta l'anello di congiunzione tra passato e presente, intrisa di memorie antiche, circondata come dai palazzi più importanti della storia locale. Qui si erge infatti il Duomo, dedicato alla Madonna della Santissima Annunziata, con la facciata originale gotica del 200. Proprio di fronte alla chiesa, ecco il Palazzo dei Priori, attuale sede del comune. Ancora oggi, il cuore di Todi racconta quella quotidianità antica, come fosse un palcoscenico spalancato sulla storia. La 5008 è una monovolume compatta, a 5 o 7 posti, e fa viaggiare i suoi occupanti con un alto livello di praticità, comfort e sicurezza. In uno spazio definito da una console alta, il conducente dobina la strada e tutto l'ambiente circostante. Il nuovo restyling si evidenzia soprattutto nel frontale, che richiama il design dei più recenti veicoli di Peugeot, con i nuovi proiettori e la calandra sospesa con guarnizione cromata. 5008 è pratica da usare, dinamica e stimolante per il guidatore. L'abitacolo posteriore permette di modulare il volume a piacere. Sedili ripiegabili singolarmente, pianale piatto, sedile del passeggero anteriore ripiegabile a portafoglio. Le motorizzazioni benzina e diesel garantiscono prestazioni e comfort. Ad esempio, il 1.6 HD FAP, con stop e start, è campione di emissioni e di consumi, con appena 109 grammi di CO2 al chilometro, ovvero 4,2 litri per 100 chilometri. Nonostante le dimensioni generose, la nostra 5008 si destreggia bene, sia nelle strette vie del centro storico di Todi, dove si apprezzano le doti di manovrabilità, sia sulle strade provinciali limitrofe alla città, dove emergono le qualità dinamiche di una compagna di viaggio con la quale siamo andati alla scoperta di un territorio suggestivo, dove storia, natura e tradizioni si fondono in un contesto davvero unico.